Allarmato dalle numerose ingiunzioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate della Camera di Commercio, nonostante fosse in possesso delle regolari ricevute di pagamento consegnategli dal proprio commercialista, che si era anche curato dei relativi pagamenti, si era rivolto alla polizia per sforgere denuncia. E' così che il rappresentante legale di una società operante nel settore della solidarietà ha scoperto, grazie alle indagini avviate dagli agenti del commissariato Borgognina, di essere stato truffato dal proprio commercialista, nel frattempo resosi irreperibile, avendo anche cambiato sede dello studio, che non solo aveva incassato il denaro ricevuto per i pagamenti mai effettuati, ma aveva anche contraffatto il logo della Camera di Commercio apposto sulle ricevute consegnate all'ignaro cliente. Alla fine l'uomo è stato rintracciato e denunciato in stato di libertà. Si tratta di un professionista con studio in una zona centralissima della città, che dovrà rispondere adesso dei reati di falsità materiale commessa dal privato per aver utilizzato in modo alterato il logo della Camera di Commercio e di truffa ai danni della società per un importo pari a svariate migliaia di euro tra tasse e onorario.